Padre Antonio Nuara è il parroco da nove anni della chiesa dell'Immacolata qui a Ribera. Non è nuovo a posizioni forti e sul suo profilo Facebook l'altro giorno ha preso posizione riguardo le spose scollacciate. Noa ha detto padre Nuara alle spose che fanno vedere davvero tutto. Si può essere allo stesso tempo eleganti anche con semplicità. Padre Nuara lei ha 50 anni di sacerdozio e di nozze ne ha celebrate tantissime. Lei l'altro giorno sul suo profilo Facebook ha scritto un post rivolgendosi al senso del pudore, all'eleganza, quella che secondo lei viene a mancare. Ultimamente quando si trova davanti magari una sposa molto scollacciata, diciamo così. Perché ha deciso di scrivere questo post? Perché oggi purtroppo la chiesa ha perso la sua sacralità per quelli che vanno a celebrare il matrimonio. È diventato un luogo dove esporsi. E naturalmente non si tiene conto che è un luogo sacro, un luogo che anche richiede un certo tipo di abbigliamento. Un abbigliamento che per altri posti magari potrebbe andare, ma non assolutamente per una chiesa che è un luogo sacro, ha la sua sacralità, che bisogna rispettare anche nel modo come ci si veste. Non ha paura di passare per essere bigotto? Nel senso che comunque adesso anche il modo di vestire si è molto emancipato e magari qualcuno dice che ognuno si veste come vuole anche in quel momento. Intanto guarda, penso di non essere bigotto perché la bellezza anche della donna mi piace. Io vado a visitare i musei, ho portato i miei parrocchiani a visitare anche la Galleria degli Uffizi dove appena si entra c'è la Venere dei Botticelli che è tutta nuda. Le ho portate anche a vedere a Baccheria il museo di Villa Cattolica dove ci sono le opere di Renato Guttuso dove ci sono moltissimi nudi. Quindi da questo punto di vista io non mi turbo a vedere un corpo nudo di una donna, però ecco, secondo i posti dove ci si trova è giusto avere un abbigliamento che sia consono al luogo dove ci si trova. Mi trovo in una spiaggia, è normale che mi metta un costume, ma se mi trovo in una chiesa che è un luogo sacro mi devo adeguare anche alla sacralità di quel luogo. Ora, passare per bigotto, certo, per quelle che pensano che ormai ognuno può fare quello che vuole, naturalmente è certo che passerò per bigotto. Però se noi riflettiamo un po', penso che tutti diciamo che è giusto che secondo i posti dove ci troviamo, naturalmente poi indossiamo un abito adeguato. Le è mai capitato di dover richiamare i promessi sposi, insomma, perché la sposa si era presentata in maniera, secondo lei, indecente? Mi è capitato qualche volta di richiamare anche qualche sposa, magari poi hanno rimediato con una stola o qualcos'altro, però è capitato. Secondo lei com'è questo abito da sposa, insomma, che è indecente? Cioè, come si fa a stabilire un equilibrio tra l'eleganza e l'indecenza? Ti do la risposta che ho letto qualche anno fa sulla rivista Famiglia Cristiana. Proprio una lettrice chiedeva questo. Possiamo usare il centimetro per stabilire dove è la decenza e l'indecenza? Non è questione di centimetri. La risposta che dava, e che per me era molto bella, era questa. Vestiti in maniera tale da non disturbare chi sta accanto a te. Perché se io devo partecipare alla messa e la mia attenzione deve essere sul corpo della donna e non partecipare, diciamo così, alla messa, concentrarmi nella preghiera, allora naturalmente vuol dire che quel corpo in quella maniera mi disturba.